La Corte Suprema del Queensland, in Australia, ha stabilito che gli obblighi del prodotto immunizzante contro il COVID19 per i poliziotti e i paramedici sono stati illegali. Dopo quattro anni dall'inizio della Plandemia, dove sono stati introdotti obblighi di sanità pubblica come lockdown, distanziamento sociale e iniezioni, l'Australia ha finalmente capito che la sua risposta non era conforme alla legge basata sui diritti umani. Martedì 27 febbraio la Corte Suprema del Queensland ha stabilito che gli obblighi di immunizzazione contro il COVID19 per coloro che erano e sono in prima linea, compresi agenti di polizia e paramedici, sono stati illegali. Il giudice amministratore senior Glenn Martin ha emesso una sentenza di 115 pagine affermando che le direttive emesse dal commissario di polizia, Catarina Carroll, non hanno tenuto conto della dovuta considerazione dei diritti umani. Secondo la decisione, le direttive limitavano i diritti umani dei detti lavoratori perché dovevano sottoporsi ad una procedura medica senza il pieno consenso. L'ex direttore generale della sanità del Queensland, John Wakefield, non è stato in grado di dimostrare di aver emesso il mandato per l'immunizzazione in base a un termine implicito dei contratti di lavoro per i lavoratori del servizio di ambulanza. Di conseguenza, entrambi gli obblighi sulle immunizzazioni sono stati ritenuti dalla Corte illegali e privi di effetto. Ciò significa che 74 candidati nominati al Tribunale, che sono attuali dipendenti delle ambulanze e dei servizi di polizia, non possono essere licenziati né tantomeno disciplinati a causa del mancato rispetto del mandato obbligatorio per l'immunizzazione attraverso iniezione. Questa decisione della Corte Suprema del Queensland rende fondamentale la presenza di una commissione reale sulla plande MIA di COVED19, ha affermato la senatrice Pauline Hanson a proposito della sentenza storica di tre cause legali intentate contro il servizio di polizia del Queensland e il servizio di ambulanza per le loro indicazioni ai lavoratori, rilasciato nel 2021 e nel 2022. Questa è un'importante vittoria nella lotta per la libertà e i diritti umani in Australia. Noi italiani cosa stiamo aspettando? Se non succede nulla significa che il nostro sistema giudiziario è corrotto.